Eccola la nostra carissima inviata, Anna Maria Salvemini, all'interno dei vicoli del centro storico di San Giovanni. Eccolo lì, vedete c'è anche proprio specificato già il luogo, Palazzo Murcaldi. A te Anna Maria, buongiorno. Esatto, grazie Maria Pia, grazie a te e buongiorno anche al tuo ospite. Ogni volta che arriva qualche ospite speciale io non ci sono, però per un buon motivo. Oggi mi trovo nel centro storico, come dicevi tu Maria Pia, di San Giovanni Rotondo, un luogo caratteristico e molto significativo. E mi sono spostata perché c'è un valido motivo. Siamo praticamente davanti a Palazzo Murcaldi in compagnia di una guida turistica, la guida del Museo delle Cere. E' Lucia Pia Perna che ci ha accolti qui già da stamattina. Grazie Lucia per averci accolti. Buongiorno e benvenuti, buongiorno. Grazie, perché? Perché scopriremo diversi ambienti che rappresentano alcuni dei momenti più significativi della vita di Padre Pio. Qui è un po' come se il tempo si fosse fermato, quindi è giusto sostare e riflettere su quello che ha vissuto Padre Pio e su quello che poi ha lasciato. E Lucia sicuramente ci darà anche i dettagli, a volte sconosciuti, ancora sconosciuti. Assolutamente. Allora, il museo nasce vent'anni fa dall'idea della Museum Project, che era una ditta di Firenze, che appunto ha realizzato tutto questo. E si viene assorti, immersi in un tour emozionante e spirituale di circa 30 minuti. Ok, questa è soltanto una piccola anticipazione, però noi nel secondo collegamento approfondiremo tutto e vi faremo visitare alcuni degli ambienti. Quindi Maria Pia, se per te va bene, ci sentiamo più tardi. Anna Maria, di nuovo a te. Grazie Maria Pia. L'emozione continua quest'oggi, sì. Qui proprio a San Giovanni Rotondo, come tu stessa anticipavi, sembra che il tempo si sia fermato. Ed è proprio in questo luogo, il Museo delle Cere, un angolo in cui ti sembra di rivivere i momenti più significativi per Padre Pio, ma proprio accanto a lui. Perché le figure rappresentate sono a misura d'uomo, diciamo, a grandezza naturale, ed è proprio questa anche la particolarità. Però in questo percorso, breve, seppur breve, ci accompagna chi sa tutto della vita di Padre Pio, ed è Lucia Pia Perna, che vi ho già fatto conoscere nel primo collegamento. Lucia, intanto siamo entrati qui, Palazzo Morcaldi, però diciamo a chi, a quei pochi che ancora non lo sanno, chi è Morcaldi? Allora, questo appunto è il Palazzo Morcaldi, perché fu la residenza del sindaco, il cavaliere Francesco Morcaldi e tutta la sua famiglia. Il Morcaldi è stato sindaco di San Giovanni Rotondo per ben tre volte, proprio perché aveva un alto rigore morale. È stato grande amico di Padre Pio, suo figlio spirituale, ma soprattutto suo grande difensore. Infatti scongiurò il pericolo dell'allontanamento di Padre Pio dal nostro paese. Quindi ecco, noi sangiovannesi li dobbiamo davvero parecchio. E in questo posto, in alcune scene, anche Morcaldi è rappresentato. Però noi vogliamo subito iniziare. Purtroppo non vi possiamo far vedere tutto, perché alcuni posti, alcuni ambienti sono un po' bui, quindi ci manca la luce per poterlo trasmettere. Ci spostiamo nel primo ambiente che Lucia adesso, Lucia Pia, ci spiega esattamente dove ci troviamo. Dove siamo andati a finire, Lucia? In questa scena siamo nel 1895 ed è stata riprodotta la masseria dei Forgione a Piana Romana, una frazione di Pietrelcina in provincia di Benevento. Sulla destra c'è il piccolo Francesco Forgione, quindi il futuro Padre Pio, all'età di otto anni, che accoglie nella sua umile dimora un frate cercatore, Fra Camillo da Sant'Elia a Pianisi. Ecco, il piccolo Francesco rimane stupito dalla figura quasi fiabbesca di questo frate, in particolar modo dalla lunga e fluente barba bianca. Difatti confessò ai genitori che anche egli un giorno sarebbe divenuto un frate con la lunga barba bianca. Mentre sulla sinistra ci sono i genitori di Padre Pio, la mamma Giuseppa Denunzio, detta mamma Peppa, e il Padre Grazio Forgione, detto Zirazio, che riposano nel nostro cimitero, quindi abbiamo quest'altro grande privilegio, insieme al fratello di Padre Pio, Michele, e la sorella suora, Suor Pia della Dolorata. Le statue sono tutte in cera e resistono fino a 50 gradi centigradi e sono state realizzate da uno scultore di Pisa di nome Cristian Biasci. Ecco qui, questo è un po' quello che racconta Lucia Pia quando i visitatori vengono a San Giovanni Rotondo e hanno deciso di passare dal Museo delle Cere. È un posto che non bisogna perdersi, perché ci sono tanti aneddoti attorno ad ogni ambiente. Siamo partiti da Pietrelcina, il luogo che tutti conosciamo, il luogo nativo di Padre Pio, ma ci spostiamo in un altro ambiente. Quanti ne sono in tutto qui dentro, Lucia? Sono dieci scene, divise in due piani, quindi c'è il primo piano e poi c'è il primo piano di dieci scene. Ok, allora, ci spostiamo nel secondo ambiente. Io nel frattempo ho perso il collegamento con lo studio, però noi andiamo avanti. Eccoci qua, molto suggestivo. In questa scena siamo nel febbraio del 1916, nel convento di Sant'Anna a Foggia, dove Padre Pio trascorse però soltanto pochi mesi. Lo si può osservare con un braccio alzato, perché si difendeva dagli attacchi notturni che il demonio gli riservava. Il demonio, ecco, non tentava Padre Pio solo moralmente, ma soprattutto fisicamente, scaraventandogli i mobili da una parte all'altra della stanza. Quindi immaginate quando è arrivato nel nostro convento, no? I confratelli dicevano, questo frappio che ci avete mandato, perché la notte sentivano rumori di catene, cani che abbaiavano, mobili che volavano, quindi chiaramente si erano spaventati. Però Padre Pio nelle sue mani cosa stringe? Stringe la sua arma, il Santo Rosario. Perché soltanto pregando, soltanto con la forza che la preghiera riusciva a dargli, passava quelle notti terribili e scacciava via il maligno. Qui, Lucia, se la telecamera lo può mostrare, sicuramente l'ha già fatto, si vedono anche fogli a terra, ovviamente segni di una lotta, esatto, che sovente Padre Pio aveva con il diavolo. Andiamo avanti, se la luce ci accompagna, e ci troviamo di fronte ad un'altra scena. Quindi lì siamo a Foggia. Qui siamo? Allora, Padre Pio poggiò per la prima volta i suoi piedi a San Giovanni Rotondo il 28 luglio 1916. Arrivò al centro del paese e bussò in via Freddo numero 10, che fra l'altro è nelle vicinanze del museo. Quindi bussò a questa abitazione del signor Vincenzo Gisolfi e qui vi passò la notte, in attesa che un calesse l'indomani lo venisse a prendere dal convento. Questa scena segna proprio il primo contatto fra Padre Pio e di San Giovannesi, che lo hanno sempre difeso e sostenuto. Come vi dicevo, il primo sostenitore di Padre Pio è stato proprio Francesco Morcaldi. Lui si è battuto con tutto se stesso per evitarne il trasferimento, tanto da fare proprio dei cortei spontanei e armati per evitare appunto l'allontanamento di Padre Pio dal nostro paese. In quel periodo, Padre Pio preoccupato di tutto questo trambusto, gli scrisse una lettera, dicendogli che se anche i suoi superiori lo avessero trasferito, lui non si sarebbe di certo opposto. L'unico suo piccolo desiderio era quello che alla sua morte il suo corpo potesse riposare in questa terra. Questa lettera è divenuta testamento spirituale e la si può leggere nella vicinissima Piazza Padre Pio, alle spalle della statua bronza fatta da Pericle Fazzini. E tra l'altro nelle vicinanze del museo ci sono altri luoghi che i pellegrini possono... Magari finiamo il giro qui e poi ci racconti anche cosa si può visitare nei dintorni. Andando fuori, intravediamo sulla nostra destra un altro ambiente che però è tutto da scoprire, è tutto ovviamente da ascoltare attraverso la voce di Lucia Pia. Qui c'è il crocifisso di Gesù e Padre Pio in ginocchio. Ci spostiamo un po' più verso la luce, piano piano. Maria Pia ci seguite, tutti gli altri nostri amici telespettatori, ci seguite in questo breve percorso. La visita continua. Ci sono, dicevi? Dieci ambienti. Sì, nel totale ci sono dieci scene nel Museo delle Cere per un tour di circa 30 minuti guidato. Ok. Allora, questo è soltanto un assaggio di quello che potete sentire con il cuore, perché non si sente soltanto con le orecchie. Il racconto di Lucia e diversi momenti vissuti da Padre Pio. Nei dintorni, dicevi, ci sono diversi punti poi di attrazione che tutti conosciamo. Il 28 luglio noi, infatti, probabilmente ci sposteremo anche per ricordare questa giornata. Altri luoghi da visitare. Sì, allora, come vi ho già anticipato, c'è appunto Piazza Padre Pio, a 100 metri dal Museo delle Cere, dove viene esposta la lettera a testamento, scritta da Padre Pio a Francesco Morcaldi. Poi c'è il cimitero, che è anche a 500 metri, dove appunto c'è la cappella dei genitori di Padre Pio, il fratello e la sorella, e anche le spoglie di Emanuele Brunatto, da settembre dell'anno scorso. Poi, ritornando, ecco, di nuovo nei pressi della zona pedonale, c'è Via Freddo numero 10, dove ha bussato la prima volta e dove è stato accolto dal signor Gisolfi, e poi c'è il largo 28 luglio 1916. Perché questa piazza è così importante? Perché è stata dedicata a Lucia Fiorentino, che è stata una delle prime figlie spirituali di Padre Pio. Ecco, a questa ragazza cosa successe? Nel 1906, quindi dieci anni prima dell'arrivo di Padre Pio nel nostro paese, le apparve Gesù Cristo, quindi ebbe una visione. E Gesù le disse, le predisse, che sarebbe arrivato un grande albero, un grande frate. All'ombra di questo albero, di questo frate, si sarebbero rifugiate tante anime. E così è stato. Poi c'è la casa di Fra Daniele, in via Fratelli Chairo, lì 31, che la nipote fa visitare, insomma, chiamandola, quindi dando un po' di tempo. E bene, Fra Daniele è una figura anche che mi ha appassionato tanto. A te è molto caro. Sì, perché lui praticamente ha una storia bellissima. Ha avuto nel 52 un cancro gravissimo alla Milza, che lui descrive grande quanto un'anguria, quindi immaginate la gravità. E lui che cosa fa? Va da Padre Pio per una benedizione, e Padre Pio gli dice, no, tu ti fai operare dal professor Riccardo Moretti a Roma. Ecco, Fra Daniele dice, ma padre, non mi hanno dato speranze, come si suol dire, muoio sotto i ferri. Padre Pio, al quale non potevi dire di no, piuttosto bruscamente dice, no, tu te ne vai a Roma. Così lui raccoglie, ecco, le sue poche cose, l'indomani parte per Roma e viene operato da questo professor Moretti. Durante l'operazione, lui muore. Quindi letteralmente lascia questo mondo e visita insieme a Padre Pio l'inferno, il paradiso e il purgatorio, quindi l'aldilà. Lui dice che nel purgatorio è così triste, così privo di amore, che chiede a Padre Pio di poter tornare sulla terra, quindi di fare il purgatorio qui sulla terra, pur di non restare in quel luogo. Così Padre Pio lo accontenta, lui rinasce letteralmente, si alza dall'obitorio dove era sepolto con lenzuolo, immaginate l'ospedale in subbuglio, e da lì ha avuto dei carismi straordinari, come quello dell'introspezione, quello della preveggenza e tra l'altro ha avuto una vita difficile, quindi come Padre Pio gli aveva già predetto, un purgatorio sulla terra. 14 interventi chirurgici, incidenti stradali, vessazioni del diavolo e da lì, ecco, lui ha avuto una vita un po' straordinaria, un po' tra qua e là, come dico io. Quindi ecco, sempre un collegamento con il cielo. Non è meraviglioso ascoltarla, resti veramente a bocca aperta. Comunque affascinato dal racconto di, affascinati dal racconto di Lucia Pia, noi ti chiediamo come ultima informazione, ecco, per chi volesse venire a visitare il Museo delle Cere, cosa può fare? Deve per forza prenotare, oppure se si trova di passaggio, può fare magari una telefonata o trovare aperto, quando in particolare gli orari e i giorni. Ok, allora siamo aperti tutti quanti i giorni, dalle 10 alle 13, alle 15 e 30, alle 18 e 30. Basta raggiungere il centro del paese, quindi dove c'è il municipio. Come punto di riferimento, appunto, avere il municipio, noi siamo giusto alle spalle, non c'è bisogno di prenotare. Quindi si arriva qua, si fa il biglietto e si entra in questo magico ed emozionante tour. Ti cali nel passato, un viaggio nel passato, come Lucia Pia, prima della nostra diretta, ci diceva. Ed è vero, è vero, tutto confermato. Noi abbiamo sentito forti emozioni perché abbiamo avuto la possibilità di visitare anche gli altri ambienti, ce ne sono alcuni davvero molto forti. E quindi, insomma, di che cosa c'è bisogno quando si viene qua? Di svuotare un po' la mente, sicuramente. Esattamente, sì. Per discorsi con il cuore. Esatto, infatti si esce un po' rinnovati, dico io. Si passa mezz'ora, proprio spiritualmente parlando, molto, molto, ecco, intenso, sì, molto alto. Quindi si entra in questo tour emozionante, si viene staccati da quello che è il mondo esterno. Confermato. Allora, grazie a te Lucia Pia. Grazie davvero. E complimenti, complimenti per tutto quello che sai e trasmetti. Allora, Maria Pia, io non ti sento, quindi ti do direttamente la linea e ti ringrazio. Buon proseguimento a te e a tutti voi. Grazie. Grazie, Anna Maria. Veramente oggi abbiamo cominciato questo collegamento anche con immagini che sembravano direttamente arrivare dal passato, ho visto quel color seppia e naturalmente avete capito la rilevanza all'interno della città di San Giovanni Rotondo di Palazzo Morcaldi che custodisce questo scrigno che è il museo, appunto, dedicato a San Pio. di Palazzo Morcaldi di Palazzo Morcaldi